combattimenti con prede extra extra large grossi luci e tutti grandi predatori in queste condizioni di spinning estremo l'unica risposta possibile si chiama eraclis huge xx canne ultra potenti dall'altissimo valore tecnico dotate di sistema unibat di accessoristica sea guide abbinare le monster baits come garuda big double e huge shuttle un binomio che vi garantisce la massima sicurezza prima dopo e durante lo strike huge xx e monster baits eraclis emozioni estreme